C'è il dottor Marino Donofrio che vuol dare forse un contributo? Io sono un agricoltore fallito, sono rinunciato a fare agricoltore quando ho capito che è più difficile fare il coltivatore diretto che il medico, anche perché quando i cinghiali mi hanno devastato la linea. Io come agnonese faccio questa osservazione, in Agnone esistono decine di imprese di costruzione, imprese edile, perché non esiste un'impresa agricola, un'impresa che con personale qualificato, attrezzatura all'altezza di situazione, possa coltivare tanti terreni che sono abbandonati perché i proprietari come me, ma ce ne stanno tanti altri, non sono capaci o non hanno la voglia di farlo. Questa domanda soltanto, voi potete rispondere perché più qualificati di voi non ce ne stanno. Grazie. Grazie per la domanda, se ce ne sono altre di questo stesso tenore, le accogliamo ben volentieri. Grazie dottore. La risposta è molto semplice, è una delle cose a cui dobbiamo pensare, perché c'è la possibilità, si può costituire una cooperativa di conduzione di giovani, c'è assolutamente la possibilità di poter fare questa cosa qualora ci fosse questa esigenza. Io adesso la prendo e insieme al Presidente ci pensiamo sopra, poi faremo una riunione con i pseudo-agricoltori, pseudo-falliti, non i presidenti agricoltori, e vedremo la fattibilità, la disponibilità a cedere per non so quanto tempo questi terreni e farli lavorare. E in che forma giuridica lavorare? Appaltarli, va bene. Ok, grazie. Io ho dimenticato, chiedo scusa al Presidente, di ringraziarlo, ringrazio l'Associazione Nazionale Carabinieri, il gruppo folclorico che ci ha accompagnato prima, spero di non aver dimenticato nessun altro, però Sindaco, qua l'elenco sarebbe lungo, e chiedo scusa perché io non sono abituato a fare il moderatore, quindi queste occasioni sono per me poco consone al ruolo che di solito svolgo, per cui vado sempre e mi appello alla clemenza della Corte. Chiedo scusa, vi ringrazio della partecipazione, vi auguro una buona serata, speriamo si possa ripetere che questo evento diventi un'occasione periodica, soprattutto allargandola sul territorio, sperando che in proseguo ci possa essere il contributo anche di qualche altro comune delle zone limitrofe. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a tutti.